Rientrare in forma. Tu hai qua un po' di cedimento che bisogna allenare, così, sulla scapola. Alzi la mandibola. Senti tensioni. Queste tensioni tu adesso devi provocare. In questa posizione aprire la bocca come forse no no libero ok di più possibile no alzi alzi senti tensioni ok adesso non cambiare posizioni abbassare mandibola abbassare più qua come forse cibo tu devi arrivare a deglutire copri, copri con labbra ok così ok apri vai a prendere cibo copri, copri di più ok così così senti tensioni ok apri vai a prendere cibo e qua ok cibo e qua ok questo devi sentire benissimo trattenere fino a tre aprire di nuovo apri vai a prendere cibo che sopra ok senza tensioni benissimo devi fare questo due volte al giorno qualsiasi orario con distanza due tre ore questo è proprio per colmo allora quante volte hai detto scusa due volte al giorno per un minuto a un minuto a qualsiasi momento poi massaggio massaggio è molto importante devi fare a base di maschera non puoi usare creme perché non tutti i cremi si può massaggiare bisogna usare maschere quelle crimose nutriente questa è fondamentale devi ogni mattina mettere su tutto il tuo viso compreso anche i contorno occhi fai le tue cose quelle che vuoi copri i capelli perché magari ognuno 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 di noi non lava sempre quindi quando decidi tornare torni in bagno bagni un po' mani e massaggi sopra così ti scivolano mani come si massaggia io preferisco farti vedere questo per la tua zona iniziamo quattro qua verso l'uomo aspetta perché ecco così sì quattro qua bravissima finisci sotto l'uomo quattro qua abbracci abbracci bene abbracci bene abbracci bene abbracci con così ok poi quattro qua sì sì no non andare sopra non andare sopra ah mi fermo qua fermi perché devi massaggiare da questa parte qua sì quattro qua prepari mani in questo modo e inizi a fare questo movimento verso l'orecchio no verso l'orecchio scusami così così bravissima bravissima ok questo devi fare poi prepari mani così dobbiamo alzare angoline dell'occhio quattro qua proprio più qua e qua i pezzi ok poi la stessa cosa ripetiamo da questa parte poi da questa parte andiamo sul fronte ok ha fatto sulla fronte adesso andiamo sul no no con polpastrelle andiamo sull'occhio così brevissimo brevissimo fatto così poi metti polpastrelle in questo modo iniziamo a fare circolini circolini dal centro fuori ok dopo questo mettiamo qua questa zona questa zona circolini qua sì bravo bravo ok tre quattro poi questa più giù ok più giù poi qua bellissimo è così sì sì e questo quante volte? quattro o tre volte quattro? allora ogni zona tre quattro volte poi prepari polpastrelle giù iniziamo a fare movimento trasversale 4 4 4 4 bravissimo adesso blocchi blocchi collo base e facciamo un po' pechettamento sì ok a gonfiera va bene perfetto abbiamo fatto un massaggio due o tre minuti quindi questo massaggio fai ogni mattina la tua pelle cambia da così a così sarà bella elastica fresca quindi senza fatica grazie io grazie a tutti